Justin Bieber e Ailey Baldwin si sposano. Il cantante è al settimo cielo. Come ha reagito Selena Gomez alla proposta di matrimonio? Justin Bieber è tornato tra le braccia di Ailey Baldwin, e questa volta la coppia fa sul serio. Dopo il brusco, addio di qualche anno fa, il cantante e la modella sono pronti ora per il matrimonio e dei figli. Come confermato dal padre di Ailey, l'attore Stephen Baldwin, fratello del più famoso Alex, Bieber ha chiesto alla fidanzata di sposarlo. La risposta è stata affermativa e il canadese è letteralmente al settimo cielo. Da tempo l'artista sogna di diventare padre e a suo dire Ailey è la mamma giusta. Quella perfetta, per i suoi figli. Giustin vuole essere un papà giovane e pensa che la Baldwin sarà una mamma fantastica, ha fatto sapere una fonte a Uli e Ulipe. Bieber ha realizzato così tanto nella sua vita professionale che ora si sente pronto per un altro passo, quello relativo alla sua vita privata. Vuole crearsi una famiglia tutta sua, si legge ancora sul magazzine americano. Ma come ha reagito Selena Gomez, celebre ex fidanzata di Justin Bieber? Selena Gomez sta soffrendo per il fidanzamento di Justin Bieber. . Selena Gomez non ha preso bene l'ultima decisione di Justin Bieber. Come racconta Lori Woodley, l'ex stellina Disney è stata colta di sorpresa nell'apprendere la notizia. . Soprattutto perché non pensava ad un fidanzamento così veloce. Seppur amici di vecchia data, Justin e Ailey Baldwin si stanno rifrequentando da poco tempo, più precisamente dallo scorso giugno. . Se si tratta di una proposta seria, di un amore sincero da parte di Justin nei confronti di Ailey, Selena non può fare a meno di chiedersi perché fino a pochi mesi Fabi Ailey si professava innamorato pazzo di lei, ha rivelato un amico della Gomez. . Anche se va detto è stata Selena a mollare Justin dopo il ritorno di fiamma dello scorso inverno. . Perché Selena Gomez e Justin Bieber si sono lasciati, punto Justin Bieber e Selena Gomez si sono presi una pausa lo scorso marzo e poi si sono lasciati definitivamente. . A chiudere la relazione è stata la star di origini messicane. Il motivo? Se l'ha preferito la famiglia e gli amici anziché il fidanzato. Justin era in viso alla famiglia Gomez, tanto che per un periodo la madre di Selena, ha smesso di parlare con la figlia. . Mandy Daven Cornett è finita addirittura in ospedale dopo un furioso litigio con la cantante e attrice. Una situazione piuttosto delicata. Che ha spinto Selena a chiudere definitivamente il rapporto con Justin. . 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